Siamo con Amanda Lear all'apertura della sfilata di Roberto Cavalli. Non è la prima volta per te? No, non è la prima volta che vedo la sfilata di Roberto Cavalli. Cavalli è un amico e poi sono sempre stata, lo sai, dall'inizio una panterata. Mi sono sempre piaciuto queste stampe macchiate, zebra, tigre. Dunque io adoro quello che fa Cavalli, non fa solo questo naturalmente. È il suo marchio di fabbrica? Sì, la donna è un po' aggressiva, un po' provocante, mi piace. Valorizza sicuramente quello che è l'essenza della donna, una donna che deve essere chiaramente rivalorizzata. Abbiamo visto che tutta questa settimana della moda, evidentemente, il tema principale è quello, dare potere alle donne. Sì, completamente, le donne, poi avete da oggi un nuovo governo che è pieno di donne. Le donne al potere!